Buongiorno, buona mattina a tutti voi, ben ritrovati per Occhio ai giornali, il primo appuntamento con l'informazione di Fano TV. I giornali sono pronti, li sfoglieremo insieme, però prima guardiamo Santo del Giorno e poi i provvisioni del tempo. Oggi martedì 15 dicembre, Santa Maria crocifissa di Rosa, il sole è sorto alle 7.34 e tramonterà alle 16.32. Vediamo le previsioni del tempo, partiamo dalla nostra centralinea meteo che ci dice che c'è una temperatura al suolo in questo momento di 3,8 gradi e un'umidità del 97%. La foto che ci rimanda alla webcam è a quanto eloquente a riguardo, come potete vedere c'è foschia e nebbia, cosa che è un leitmotiv di queste ultime settimane, foschie e nebbie alla sera e nelle prime ore del mattino. Vediamo velocemente le previsioni per oggi, questa è la situazione, cielo poco sereno o nuvoloso, salvo nuvi basse o nebbie, appunto al mattino lungo la fascia costiera, le precipitazioni sono assenti, vediamo quelle per domani, mercoledì, occhio e croce è la stessa cosa, nessuna precipitazione, nessuna segnalazione di rilievo, anche per giovedì, vedete, la situazione è direi stazionaria quasi tutti i giorni, sereno poco nuvoloso, precipitazioni assenti e comparsa di nebbie all'interno nelle prime ore della giornata. Anche la tendenza per i giorni successivi sarà su condizioni di tempo stabile per tutta la settimana, quindi insomma questo è alquanto al momento quello che si prospetta dal punto di vista meteorologico. Dunque la giornata di ieri sul fronte delle notizie è stata la giornata dei lunghi coltelli per gli azionisti di Banca Marche, insomma che si sono radunati al Flaminio e allora partiamo proprio dal di qui nella pagina di apertura dell'inserto del resto del Carlino vedete alquanto eloquenti i volti dei azionisti 400 all'assemblea del Flaminio, tutti disperati di Banca Marche, l'avvocato dei consumatori attacca Banca Italia, pagate o vi portiamo in tribunale ridateci i soldi e poi in testa sgarbi contro l'albero di Natale di Urbino, forse verrà spostato, si rivolge alla soprintendenza e poi la pista di ghiaccio che campeggia nella piazza di Pesero ha rischiato di essere smontata, la soprintendenza anche qui ci ha messo lo zampino. E allora entriamo nelle pagine del Carlino, come vi dicevo Banca Marche, gli azionisti hanno fatto un'assemblea all'hotel Flaminio a Pesero, insomma è tanta rabbia c'è stata, appunto la rabbia dei 400 e d'ora in poi i risparmi li porto alle poste, queste alcune considerazioni, gli umori della folla, mio padre ha perso 200 mila euro, non parla più e vedete poi di spalla ci sono anche così le considerazioni di alcuni di loro e come vi dicevo insomma anche nell'espressione facciale, nella mimica facciale tutta la stigmatizzata, tutta l'atmosfera, l'umore di questa assemblea. Cambiamo pagina, continuano le azioni di sensibilizzazione delle giovani generazioni sui danni della droga e parla questa volta un ex pusher, colui che era dall'altra parte e adesso ha fatto il salto della barricata, siamo sempre a Pesero, si chiama Cerullo, viene da Scampia e a teatro parla ai ragazzi del Bramante e del Genga, l'ex pusher appunto parla gli studenti, non esistono gli irrecuperabili, tutti possono essere sulla strada del recupero anche quando si esce dal carcere, lui si occupa anche dei bambini, dei più piccoli e dice appunto ora è uno scrittore, il crimine più grande che si possa commettere contro l'umanità è quello di non permettere ad un bambino di essere un bambino e questo è sicuramente una verità quanto mai vera e cambiamo la città, andiamo a Fano con il resto del carlino, vi porto nella pagina dell'inserto di Fano, si parla di Croce Azzurra e quindi di autisti delle ambulanze, Belli che era colui che aveva appunto la Croce Azzurra prima che fosse data come cessione di ramo d'azienda al Solaris, si riappropria della sua ex azienda, quindi il tribunale di Pesaro accetta il suo ricorso e viene appunto decretato che il contratto può essere rescisso, appunto il contratto stipulato l'aprile scorso con la Solaris e quindi Belli vince la battaglia in tribunale, torna in possesso dell'azienda, quindi c'è un ritorno al passato però i 12 dipendenti ancora, una dozzina di dipendenti rimasti ancora in arretrato con gli stipendi sono un po' freddini su questa cosa. E poi qui di spalla dopo l'incidente Sara è iniziato il risveglio, piccola ripresa per Sara Bracci, la sommelier, insomma ideatrice della staffetta del Bianchello recuperata al Torrette di Ancona nel reparto di rianimazione per un incidente terribile che l'ha vista protagonista e che l'ha portata appunto nel reparto di rianimazione i medici hanno iniziato a ridurre il cocktail di farmaci che la tiene appunto sedata cercando di riportarla al risveglio. Nelle pagine del Carlino di Fano si parla anche di un'altra piaga sociale che sicuramente tutti conosciamo, quella della dipendenza patologica da gioco e in particolare la CISL punta il dito sulle slot machine. Allora la proposta lanciata ai sindaci da Giovanni Giovannelli appunto della CISL dice slot machine è il vero veleno, toglietele. Troppe sale, molte anche vicino alle scuole, i comuni trovino una strada e queste slot machine spesso hanno causato insomma disastri anche economici e portato le persone sull'astrico e insomma anche famiglie intere rovinate per questa dipendenza patologica da gioco. E poi sempre nelle pagine del resto del Carlino di Fano si parla del Battisti, Battisti 700 firme perde la sua autonomia e quindi l'istituto fanese però non si arrende, si decide a fine mese e il dirigente Giorgi ci crede ancora, lo vedete qui insieme agli studenti con la maglietta, con la maglietta che appunto cerco di ingrandire per farvi leggere cosa c'è scritto, l'ingrandimento non ce lo consente, comunque è una protesta che va avanti da diverso tempo e ci precludono dice qualsiasi possibilità di sviluppo per i prossimi 10-20 anni e quindi insomma vedremo come va avanti questa cosa, c'è stata anche appunto la politica interessata a questo, vedremo anche altri articoli su questa cosa. Parliamo del Corriere Adriatico, andiamo a Pesaro, gli indagati pagheranno con le polizze, anche qui si parla di Banca Marche, all'Assemblea dei Dipendenti, prende corpo l'azione legale e invito anche al boicottaggio, a boicottare Banca Marche appunto come abbiamo visto nell'altra testata, insomma risparmi alle poste e gli indagati pagheranno con le polizze perché l'Avvocato dell'Unione dei Consumatori dice cercheremo di avviare un'azione legale verso i vertici dell'istituto bancario con l'obiettivo di attingere alle loro polizze assicurative private per riavere quanto è dovuto da chi ha perso tutto. Fano, la pagina del Corriere Adriatico, anche qui il Battisti spallata all'istruzione fanese, il vicepreside del Battisti, le regioni ricordino che siamo la terza città delle Marche e molto penalizzata appunto e dice mi meraviglia proprio che a sostenere queste idee ci siano persone del posto per la serie Facciamoci del Male. E poi lavori alla Rocca, la Rocca ha sempre avuto grande attenzione da parte di tutti perché è un luogo molto bello che merita di essere fruito da quante più persone possibili, però il limite di 99 persone ha sempre costituito una barriera per qualsiasi manifestazione, per qualsiasi evento. L'interno della Rocca è veramente molto suggestivo, soprattutto di sera, però questo era il suo limite. Adesso il lavoro di ripulitura esterno ha consentito di, dice l'assessore Marcheggiani, di scoprire la porta quattrocentesca di Soccorso che si trova sul fianco del bastione, è una porta sul lato del porto canale, si potrà riaprirla e quindi insomma è un percorso tuttora agibile e leggibile e quindi insomma con questa porta si è risolto il problema che era il problema principale, mancavano le uscite di soccorso oppure insomma ecco non erano sicuramente adeguate quelle che c'erano per un numero superiore di persone. Speriamo che questo consenta a tutti di fruire di questo bel monumento, soprattutto d'estate, per tante manifestazioni che si possono fare. Altra pagina del Corriere Adriatico, si parla di ACLI, associazione notissima, 70 anni di storia e di solidarietà, tutti i sodalizi della provincia hanno festeggiato il traguardo di queste persone umili e laboriose. E poi ciclabile fanofenile, è partita l'abitumazione, 3 km di tracciato che costeggerà la provinciale sul lato destro in direzione nord. Cambiamo testata, andiamo all'ultima che vi propongo, il messaggero come sempre, pagina di apertura, qui si tocca un argomento un po' diverso, si parla di Tax Day, si va alla caccia di 18 milioni, si parla di Tasi e Tari, che è quella di 18 milioni, una somma che il Comune di Peso deve ancora incassare, è appunto compresa anche Limo. Intanto l'assessore delle Noci ha il compito di tentare di ridurre la pressione fiscale, quindi un duplice compito riscuotere ma ridurre la pressione fiscale. Fotonotizia, qui l'assemblea degli azionisti, Banca Marche, un fiume di esposti, rabbia e speranze di rientrare dei propri soldi. Banca delle Marche, procura sommersa da esposti in 500, si sono rivolti alla di Consum, di questi 150 di Ancona, Santinelli diceva noi puntiamo ad agire in sede civile caso per caso. Quindi anche qui Banca delle Marche uniti per cambiare il decreto, e quindi insomma veramente ieri è stata una giornata, come ho detto all'inizio, dei lunghi coltelli per i vertici di Banca delle Marche. Allora l'albero di Natale, tormentone di queste vacanze natalizie sotto tutti i punti di vista, quello di Urbino veramente sta sul gozzo a sgarbi, al critico avvia un'azione di denuncia alla sovrintendenza, albero dice illegale, l'assessore ne ordina l'immediata rimozione chiedendo che ogni abuso venga perseguito ai termini di legge. ultima pagina che vi faccio vedere per il messaggero è questa appunto di Fano, in evidenza la vicenda del Battisti, autonomia del Battisti, i docenti cercano naturalmente alleati, vedete qui lo striscione messo su, giù le mani del Battisti, si potrebbe fare un hashtag anche con questo, critico il consigliere regionale, Fano trattata peggio di tutte e appunto Carloni dice nel piano scolastico deve essere bocciato l'accorpamento ITC al Polo 3, perché causando questa una sperequazione alla rete scolastica. E poi si parla anche ampiamente del comitato dei sindaci che vanno al via per l'operazione trasparenza, ambito sociale, il regolamento va oggi in consiglio comunale. Mandolini, colui che è stato chiamato a ricoprire pro tempore questo incarico a capo dell'ambito sociale 6, dice accumulati 14 anni di ritardo, ma ora sarà il più moderno di tutta la regione. Bene, questa era l'ultima notizia che vi proponevo sulle pagine del messaggero. Grazie per essere stati in nostra compagnia e di aver aperto la mattinata insieme a noi. I giornali tornano domani mattina alle 7.30 e questa sera occhio alla notizia. Buona giornata a tutti voi.